amiche amici di safe drive oggi vi parliamo di veicoli multispazio uno in particolare naturalmente ve li ricordate sono esplosi commercialmente nei primi anni 2000 ed erano veicoli che ovviamente derivavano dalla loro versione commerciale ma erano adibiti al trasporto persone è così ci sono anche oggi naturalmente stanno recuperando terreno con versioni nuove decisamente interessanti oggi in particolare vi andiamo a parlare del ford torneo connect chi ha un occhio attento riconoscerà la somiglianza col volkswagen caddy e in effetti è vero c'è una collaborazione tra i due marchi e quindi ovviamente diciamo che la piattaforma è assolutamente quella poi ci sono le due personalizzazioni per quanto riguarda ford in particolare questa è la versione da quattro metri e mezzo esiste anche quella del gran torneo connect che è lunga 35 cm in più questa per le esattezze 4 metri e mezzo dettagli distintivi a livello estetico bene bare sul tetto che sono sicuramente molto utili cerchi dedicati in questo caso sono da 17 pollici ma ci sono anche da 18 un bel frontale con una griglia importante e nel caso specifico di questa versione active anche la piastra sotto il paraurti ribassato che fa la protazione magari anche per un terreno accidentato come questo tanto spazio a bordo perché ovviamente le dimensioni sono importanti 1 e 86 la larghezza 1 e 83 l'altezza un'auto molto molto intelligente con diverse soluzioni interessanti che adesso vi andiamo a far vedere eccoci quindi nell'abitacolo intanto fuggiamo subito un dubbio che magari può esservi venuto effettivamente la posizione di guida da veicolo commerciale da automobile da automobile decisamente comoda anzi abbiamo un bel volante multifunzione per il resto abbiamo un quadro strumenti davanti a noi digitale da 10,25 pollici e un touch screen con tutte le informazioni del computer di bordo da 8,25 pollici sedute comode oltretutto nella versione active abbiamo anche delle impunture blu che sono piuttosto carine perché no per il resto una strumentazione perfetta comoda e una plancia direi anche piuttosto ben fatta ben fatta con dei materiali eleganti lineare quindi diciamo che non c'è nulla di diverso rispetto ad un altro degli altri modelli ford comunemente in vecchio la parola d'ordine modularità per i ford tourneo connect quindi porta laterale scorrevole che possiamo bloccare e poi i sedili che possiamo andare ad inclinare in questo modo ma possiamo fare anche così e guadagnare ulteriore spazio non vi basta li potete anche rimuovere il bagagliaio come sarà grande grandissimo fino a 2,6 metri cubi di carico e poi lo spazio anche in profondità pensate che dalla soglia di carico bassa quindi comodissima fino alla prima fila dei sedili ci sono 110 cm se li abbattete fino invece l'altra fila dei due sedili quelli anteriori sono 191 centimetri se piove beh avete una bella verandina un tavolino due sedi e anche un caffè un motore diesel quattro cilindri eco blu è un 1997 centimetri cubi o 2000 insomma da 122 cavalli e a 320 newton per metro di coppia allora sono dati assolutamente interessanti perché vuol dire che questo motore ha una risposta sempre molto pronta tipico del diesel un'erogazione fluida anche dal basso quindi sostanzialmente anche ai bassi regimi possiamo guidare in assoluta tranquillità molto molto fluidi ma quando abbiamo bisogno di una risposta più pronta ecco che allora la potenza c'è e possiamo sfruttarla al meglio il tutto si abbina al cambio manuale a sei marce un altro elemento che magari e giustamente direi vi potrebbe incuriosire la tenuta di strada sì perché è chiaro che le dimensioni sono importanti non è tanto la lunghezza che assolutamente nella norma e nella media delle auto di oggi 4 metri e 50 piuttosto la larghezza che è ben un metro e 86 l'altezza 183 allora dobbiamo dire che la tenuta di strada è ottima è chiaro che se esagerate un po forzate un pochino con la velocità soprattutto in ingresso e percorrenza di curva c'è un minimo di tendenza al coricamento e un pochino di sottosterzo però effettivamente sono fenomeni minimi e ripeto per innescarvi bisogna davvero esagerare ovvero avere un comportamento la guida che non senza rispetto alla tipologia di vettura che stiamo appunto provando quindi vuol dire che sostanzialmente la tenuta di strada è eccellente sicura e ci consente di guidare veramente in grande tranquillità tenendo presente che questa auto fondamentalmente e chi ha rivolto beh soprattutto alle famiglie si può utilizzare per lavoro ovviamente e per chi magari nel weekend e nel tempo libero ha degli hobby che richiedono magari l'uso di attrezzatura anche di certa dimensione e quindi avere un carico a disposizione come quello offerto da questa vettura ecco anche in quel caso può essere un'auto assolutamente adatta e idonea però ripetiamo condizioni ovviamente di guida molto molto tranquille e vi potrete godere il ford torneo connect davvero con grande piacere un'ultimissima cosa che voglio dirvi è che questa versione di ford torneo connect è dotata della trazione interiore motore diesel e cambio manuale a sei marce però nella gamma di torneo e grande torneo connect sono disponibili anche altri allestimenti con la trazione integrale e con il cambio automatico a doppia frizione bene siamo in chiusura anche di questa prova e come sempre in chiusura vi diciamo il prezzo nel caso del ford torneo blu connect nella sua allestimento active col motore diesel 2000 eco blu il prezzo di 34.250 euro 50 euro